I conti non tornano a dirlo, è la Will Funzione Pubblica Toscana in merito al piano delle assunzioni dell'ASL Toscana Sud-Est. Anche se il totale, spiegano dal sindacato, risultante dalla somma dei dipendenti che hanno lasciato il servizio e quelli che sono entrati dal 2021 al 2024, per il momento è positivo, ci sono aspetti che ci preoccupano e non poco. Come è reso noto anche dai rappresentanti dei lavoratori, il saldo conta su un incremento di 82 dipendenti in più rispetto agli anni passati. La situazione è cambiata, però l'inversione di tendenza è arrivata all'anno successivo per poi confermarsi anche nei mesi successivi fino ad arrivare ad oggi. Per il 2022 sono state 583 le cessazioni e 480 le assunzioni, con una riduzione di 103 unità. Nel 2023, invece, le cessazioni sono state 561 e 506 i nuovi assunti, con uno sbilancio di 55 unità. Infine, nel 2024, le cessazioni si dovrebbero attestare intorno alle 558 unità, mentre si parla di 502 assunzioni, confermando un trend negativo di 56 unità. Per il 2025-2026 la tendenza, dunque, che sembra emergere è ancora quella di coprire parzialmente e in maniera non sufficiente le cessazioni, che farà di nuovo diventare negativo il bilancio complessivo, una situazione preoccupante sia per i livelli occupazionali che per la tenuta del sistema pubblico che rischia il collasso.